Ancora qualche istante prima del via. Deve entrare Luca Mazing. Ancora fuori. Buonasera. Buonasera. Per andare agli ordini dello start. Partite. Non brillantissimi. Non succederà più. Ida Chicken. Buonasera. E invece Gabriella e Rosa Excel che vanno davanti a Jadzma Diomira. All'esterno converge. Buonasera. E allora in vantaggio è Gabriella. Gabriella con di fuori Rosa Excel, Jadzma, Buonasera, Diomira, Favola Antica, Ida Chicken in corda Memamur. Poi Act of War che procede Nuit Sue in coda a Luca Mazing. Rosa Excel accompagna la leader Gabriella. Poi Jadzma, Buonasera, Favola Antica nelle prime posizioni di Omira. Tutti molto raccolte con Rosa Excel che accompagna sempre Gabriella. Dietro c'è Jadzma. All'esterno Buonasera e Favola Antica. Memamur in corda. Poi Diomira, Ida Chicken. indirittura Rosa Excel all'esterno di Gabriella. Dietro due Jadzma. All'esterno poi prova la progressione Favola Antica con Buonasera. Dietro ai primi Jadzma che prova a spostare. Rosa Excel che attacca. Buonasera che attacca. Buonasera. All'algui tutti Diomira. Poi cerca il varco Jadzma alla corda Gabriella. Con Act of War lottano in diversi tra questi. Act of War, Diomira, Jadzma. Buonasera. Nuit Sue lotta furibonda. con intanto Act of War che se ne va. Da Nuit Sue, Act of War. Nuit Sue, 1-11. Vediamo poi chi è terzo. Act of War che vince su Nuit Terzo Diomira. 1-11-3. Quindi vittoria di Act of War su Nuit Sue, 1-11-3. Diomira, trio dei botti, anzi visto che è quarta e Jadzma ha tutti e quattro dei botti. Due tra Stefano e Endo. Questa è la situation. 1-11-3-7. Primo degli altri. E Buonasera che ha corso veramente bene. Quinta attaccata. Ma niente da fare. 1-11-3-7-2. Questo è l'ordine d'arrivo di questa prova. Da rivedere anche Piauta a largo di tutti e Mem Amur che è finito settimo. Quindi 1-11-3-7. È tutto. Grazie. Grazie. Grazie.